Adesso facciamo un'apertura di bottiglia, un po' diversa, in sostanza non potremo utilizzare il verme, va bene, ma aggiungiamo un aggeggio particolare, una pressione. Allora chiedo scusa che faccio fare un po' di silenzio a Ludovico, allora guardate, allora faccio vedere, c'è un'ago, va bene, e dopo utilizzeremo la pressione, allora facciamo, ecco, abbiamo inserito l'ago e adesso cominceremo a fare pressione e il tappo si dovrebbe alzare, dovrebbe uscire. Vediamo un pochettino se ci riusciamo, guardate come si comincia ad alzare, guardate, perfetto, guarda, e adesso possiamo fare un pochettino, per stare insieme, una grande risposta a un pesa, chiedo a un pochettino, papà, non vi chiedevi? Ok.